La legge di Regione Lombardia che disciplina la costruzione dei luoghi di culto in Lombardia era e rimane una legge di buonsenso, non è una legge discriminatoria, è una legge che disciplina la costruzione delle moschee sui territori e da un punto di vista urbanistico e definendo regole chiare e certe e prevedendo il referendum consultivo, ovvero la possibilità da parte del popolo, la possibilità da parte dei cittadini di un territorio di poter decidere della storia e del futuro del proprio territorio. La decisione di oggi della Corte Costituzionale e di ieri da parte del governo Renzi di impugnare questa legge è una decisione grave, è una grave ingerenza politica rispetto a una legge votata dal Parlamento Lombardo. È un'ingerenza, è un intervento a gamba tesa da parte del governo Renzi e della Corte Costituzionale che va contro la volontà del popolo. La volontà del popolo è sempre sovrana ed è per questo che, ad esempio, grazie alla legge di Regione Lombardia, a Cantù abbiamo bloccato, anche grazie a 3.000 firme dei cittadini canturini, la costruzione di una moschea. Oggi, con la bocciatura di questa legge, c'è il rischio che a Cantù torni a sorgere un luogo di culto islamico. Un regalo all'Islam, un regalo all'Islam radicale, un regalo ad una cultura e a una religione profondamente incompatibili con i valori della società e del mondo occidentale. Noi a Cantù ci muoveremo affinché questa moschea non venga realizzata e venga salvaguardata la volontà dei cittadini canturini, anche per preservare la sicurezza dei canturini. Oggi il territorio comasco è lambito ed è toccato dal fenomeno del terrorismo, fenomeno del terrorismo che tocca interamente il nostro Paese e noi non possiamo, nei confronti di chi non sottoscrive le intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, sedersi al tavolo. Mai un centimetro della mia terra, mai un centimetro del mio territorio, verrà regalato a chi non rispetta le regole del nostro Paese.